Conta la rovescia per la diciottesima maratonina città di Arezzo, competizione podistica internazionale, organizzata come sempre dall'Unione Polisportiva Policiano. Domenica prossima 21 chilometri validi anche per i tre campionati italiani vigili del fuoco, medici e consulenti del lavoro. Sarà una manifestazione basata sulla presenza di atleti, principalmente africani, ma non soltanto loro, che si cimenteranno e faranno veramente un grande spettacolo. Noi raccogliamo che saranno circa 30 gli atleti che potranno essere papabili alla vittoria finale, quindi con un risultato tecnico di alto livello. Noi abbiamo atleti che vengono dal Kenya, chiaramente il Kenya sarà quella privilegiata sotto questi aspetti qui e pensiamo anche che se tutti gli atleti presenti faranno il ritmo adeguato, probabilmente ci potrebbe essere anche il record della gara. Quindi questo per quanto riguarda l'aspetto proprio tecnico. Poi ovviamente la presenza massiccia di tanti concorrenti, questo farà un colore importante alla città perché quando si parla di 2.000 atleti che invadono una città è come dire veramente transitare in mezzo a un fiume, una marea di concorrenti. E poi ovviamente la gara è abbastanza veloce, è un percorso che sono il secondo anno che lo facciamo dopo il campionato italiano dello scorso anno. Abbiamo visto lo scorso anno che ha funzionato molto bene, quindi dovrebbe essere anche regolare da un punto di vista della viabilità, quindi anche i disagi dovrebbero essere ancora minori. Un evento molto importante per la città perché ovviamente promuove l'attività sportiva ma promuove anche la città. è l'evento più importante per la città di Renzo in termini di presenze, per cui noi la vogliamo valorizzare ancora di più.